c'è avvisato addirittura se sei così main darios che è convinto alla la riot a farti la maestria con lascia proprio per te c'è che cazzo r per il beccato però per quello io vedo meno campioni collage paris io per questo perché ci va non ce l'ha il mana c'ha le cariche non hai le cariche ha la furia pure il cazzo è si incazza si incazza si incazza si incazza qu o è? il colla w eri devi partire ah si è partito con la q yaya bravo il minchia eh dai però come si devo fare il blu sto cazzo di brand se ne sta sempre dietro madonna ma che cazzo è questo ma chi è questo beyshot è alex è alex che è una pussy e non vuole fare la what la coda di 20 minuti da perchè a internet vediamo non sta a rompere il cazzo per favore ma che cazzo sta succedendo perchè prima ho rotto il cazzo e che trollavano allora ci sono rotte le palle perchè mi lamentavo madonna ma ma alex mo si risconnetterà fammi capire ma se c'è dai 3 v 5 cazzo è ovvio che c'è scusa ma perchè ha cambiato nome non ha cambiato è un nuovo profilo questo ah è un nuovo profilo che livello è? oh alex se stai giocando per non combinare un cazzo da supporto allora a meno che ti risconnetti non è un'efficacia un'efficatura abbandonata la cazzo è il classico e va bene va bene che pare sto team bello giocare contro team quelli che menano team hanno i campi in culo la morte peggiore da tutto non so cosa fare in quei non team dove cazzo è finito sto team ferma world E' qua, vecchio Ferma, Ward! Non so dove cazzo, eh, non mi ricordo più Cos'è qui? Che frego Io dovevo ancora capire questa cosa perché Quando giochiamo le partite per i cazzi nostri e vinciamo Arriva Alex e le perdiamo magicamente Eh va vaffanculo, cioè ma sto cazzo di Lucian fa due miliardi di danni Oggi lo vedi? Ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo Lo sbaglio Ma sto brand? E' Alex sto brand, quindi è incapace supporto Che schifo Alex è incapace supporto Eppure si ostina a dire, eh, ma vado dove cazzo mi dite voi Che cazzo dici? Vai fk, che male Please go fk, scrivi Scrivilo che lo fa Brand go fk Ma se la prende, Ray Go fk yourself Ma che, non ha capito che sei tu, Ray No, non l'ha capito Secondo me non si sa nemmeno ricordando Che bastante Ma sto qua si sta a prendere la torre veramente Alex tua madre Ok Non ti scrive tu la madre Ma incomincia un ping pong di tua madre Adesso incomincia a premare E poi vai fk Mia madre non c'è, avevi bisogno Un oggetto ho preso Magicamente ho cominciato a fare danni Ok Che schifo che ho fatto C'è, Ray, un oggetto ho fatto Quando Kai sta prendendo un oggetto gli avversari hanno finito di giocare Oh, Ray, il draghetto d'acqua Non lo vuoi Eh, ma se la torre sta tipo messa male Ma che messa male Pfff, nemmeno ti cacano Tankhensh Lo sistemate? Lo prende no Sta venendo anche Zyra Vi avviso Dai che cazzo Che minchia vuoi fare, Zyra? Ho preso un oggetto, Zyra Ho preso l'oggetto Dai là, sono un cazzo di cancro Che cosa vuoi fare? Occhio Vai che lo usiamo Bellissima No, vabbè, io mi diverto troppo a usare Kai'Sa C'è, è insensata Sì, da quella cosa Quella ulti su di me che avevo già abbastanza vita Per non morire Cioè, da perdere mozza ti vinciano Muota F*** È Roberto che perde Cioè, Roberto perde facendo 3-0 Oh, che mod dicono che ti lamenti perché Prendi, prendi, prendi Ma lo smite dopo lo prendo io Pusha top Ma andiamo mid Ma che ragazzi Bisogna pusha top Ragazzi Cos'è sta cosa? Pusha top? Non esiste pusha top Ma che porca a me Ma che porca a me Minimile, Robert No, no, pusha top Oh, ma cosa fu uscito? Vieni bot, ti ho messo a posto al trinket Aspetta, l'uso la lera Ma giustamente tu hai lera del lusito, c'è lo sprecito Ma no, non è il pusha top L'uso la lera Ovvio Attenzione, Roberto Si assorbe per me la ulti Grandioso Oh, qua, qua, qua Dai Dai che ne sistemiamo un altro Sì, vabbè Questo ci mette anni a morire Ah, dicevi? Forse fai che ti fai la merda Ciao È stato bello Eh, vabbè Dai Eh, vabbè Vabbè Vabbè, raccariamo easy sta partita Pusha bot Pusha bot Ah, con l'herald Grandioso Il vero pushbot Pusha bot Mi sa che sarà la prima partita pushbot che non perdiamo questa Pusha bot Sì, ovvio Registra tutto in automatico Ecco Pusha bot Pusha bot Ok, non c'è che ho fatto la storia Pusha bot Fattene l'ho Ma l'era dalla sistema la torre, vero? No, non ce la fai 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 Cazzo fai? Facciamo solo la fai Vai, vai Sistema pure quell'altra A posto Oh, merda Oh, madonna La plays La quadrupla Niente Roberto è rimasto leggermente deruso da questa cosa Noo È qua Oh, non mi fa potenziare la pioggia di Katia Forse perché sono morto Io dovevo fare assolutamente Scaffa 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 Enrico è morto Enrico è morto Non posso salvarti Enrico Valterno Che cazzo Ho fatto la kill con Tam con lo scuro Oh, merda Dove cazzo arriva? Cazzo di chi? Oh, merda La gente muore a caso Vai, non hai soffermi Cazzo Cos'era l'acqua, Roberto Cos'era l'acqua Era un bait Anche sta E Visto, era un bait Era un bait Era un bait Era un bait Per uccidere Noo Fai schifo, Roberto Roberto, perché ti stai facendo la mia farm Puttana, troia Perché Perché pusha bot Perché pusha bot? Vabbè, effettivamente è vero Dai, vieni Ho il tp, ho il tp Aspetta, ho il tp Io ho un farm assurdo Capo, sai Noo Oh, no Sono morto stelinguazzato È morto Un giovane Che bello Che razza di cosa sei Sono una tipa vestita di nudi Una giovane troietta Sono una tipa nuda vestita di corazza Vestita di corazza Che cazzo? Sì, perché è vestita di corazza del vuoto Kaisa Vieni qua, traia di guava Cioè se tu le rompi la pietra che c'ha sopra Trovi il capezzolo delle mine Volevi, vabbè 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 Se sei la sport Ma che cazzo Cazzo Sto andando a top Ma che cazzo Per fare il ritorno in base è più veloce Esatto Oh, ho sbagliato il bottone Vuoi usare l'r E niente Mi sa che sono morto Ho messo l'indice sulla R Invece che... Oh, oh, forse no, plot twist Henry, Henry Ho morto io Adesso mi ricordano Oh, mio Dio Plot twist Perché ti è nonciato Mi sono salvato te io Henry, ti sei salvato perché sei trasformato in un dragone Yeah Quattro draghi, wow Oh, ma... Enrico si stupisce del fatto che fa quello che dovrebbe fare un jungler, minchia Facciamo... Facciamo il baron, ragazzi Facciamo il baron Eh no, è Enrico il jungler Enrico deve decidere se fare il baron o no Eh che tipo Tipo qua Perché la minimappa non funziona E' molto hop C'è top Io sono full vita Non ho nulla da comprare Ma ho appena preso il baron Devo tornare in base per forza E' più forte di me Perché? E' perché una volta che hai preso il baron Devi tornare in base E' una regola per sempre più spettare Si, è per testare il nuovo recall veloce Una nuova funzionalità Il recall in 3 secondi Vabbè Che dici? Ma adesso ha ancora senso pushare bot oppure no? Te la sai puoi pushare bot Funziona sempre Non ha mai non ha senso Non ha mai non ha senso Esatto Oh che danno eh Guarda è tuo o è mio? Oh mio Dio che danno Vabbè nel dubbio è sempre mio Nel dubbio va bene Oh no ufficio quadra Vabbè dai vabbè L'abbiamo poco carriata E nel dubbio ti reporto Nel dubbio ti reporto Ah grazie Reporto Anch'io report team noob team hardcar Ciao 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 Ciao